capitolo primo la casa dello specchio una cosa era certa la gattina bianca non c'entrava per niente la colpa era tutta della gattina nera infatti la gattina bianca nell'ultimo quarto d'ora si era lasciata lavare il musino dalla vecchia gatta con una discreta dose di pazienza tutto sommato e questo vi dimostra che lei non ci aveva messo mano nel misfatto dina usava questo sistema per lavare il muso alle sue gattine prima bloccava la poverina afferrandola per le orecchie con una zampa e poi con l'altra le strofinava tutto il muso in contropelo cominciando dal naso e proprio in quel momento come vi dicevo stava strigliando di brutto la gattina bianca e se ne stava lunga distesa tranquilla tranquilla cercando di fare le fusa evidentemente convinta che tutto era fatto per il suo bene la gattina nera invece era stata pulita a dovere nel primo pomeriggio e così mentre Alice se ne stava rannicchiata in un angolo della poltrona grande un po' parlando da sola e un po' sonnecchiando la gattina se l'era spassata allegramente con la matassa di lana che Alice aveva cercato di avvolgere facendola rotolare quella per il pavimento finché non l'aveva completamente sdipanata e adesso eccola là la lana sparsa per il tappeto davanti al camino piena di nodi e garbugli con la gattina in mezzo che giocava a prendersi la coda oh cattiva cattiva piccola pesta esclamò Alice prendendo in braccio la gattina dandole un bacetto per farle capire che era arrabbiata con lei è questa la buona educazione che Dina ti ha dato e tu Dina è così che si allevano i figli? aggiunse lanciando un'occhiata di riprovazione alla vecchia gatta e facendo la voce grossa poi si arrampicò di nuovo sulla poltrona portando con sé la gattina e la lana e si mise a rifare il gomitolo il lavoro non procedeva troppo veloce dato che Alice parlava tutto il tempo a volte con la gattina a volte fra sé e sé Kitty restava seduta in grembo tutta compunta facendo finta di controllare come procedeva il lavoro e solo di tanto in tanto allungava una zampina per toccare delicatamente il gomitolo come per dire che l'avrebbe aiutata volentieri se avesse potuto sai che giorno è domani Kitty? cominciò Alice non lo sai perché non sei venuta alla finestra con me ma Dina ti stava lavando il muso e non hai potuto ho visto i ragazzi che raccoglievano legna per i falò e quanta ce ne vuole Kitty? ma poi faceva troppo freddo e aveva nevicato così tanto che hanno dovuto smettere non fa niente Kitty domani andremo a vedere il falò qui Alice avvolse due o tre volte il filo attorno al collo della gattina giusto per vedere come restava il tafferuglio che ne nacque ebbe come conseguenza che il gomitolo finì per terra e metri e metri di filo si sdipanarono di nuovo sapessi come mi sono arrabbiata Kitty riprese Alice appena si furono messe quiete quando ho visto il disastro che avevi combinato ci è mancato poco che aprissi la finestra per buttarti fuori sulla neve e te lo saresti meritato mia cara cattivella che hai da dire in tua discolpa? zitta non interrompermi aggiunse col dito levato ora ti faccio l'elenco di tutte le tue malefatte numero uno hai strillato due volte mentre Dina ti lavava la faccia stamattina non cercare di negarlo Kitty ti ho sentito che cosa hai detto? facendo finta che la gattina avesse parlato ti ha messo la zampa in un occhio? beh è solo colpa tua perché hai tenuto gli occhi aperti se li avessi tenuti ben chiusi stretti stretti non sarebbe successo e adesso non tirar fuori altre scuse ma ascoltami numero due hai tirato indietro bucaneve per la coda proprio mentre le stavo mettendo davanti il piattino del latte come? avevi sete? e non hai pensato che potesse aver sete anche lei? e arriviamo al numero tre hai disfatto tutto il mio gomitolo di lana mentre non guardavo sono tre malefatte Kitty e non sei stata punita per nessuna delle tre sto accumulando tutte le tue punizioni per il mercoledì della settimana prossima ma tra otto giorni pensa se anche i miei si mettessero ad accumulare tutte le mie punizioni aggiunse parlando più a se stessa che alla gattina che cosa potrebbero fare alla fine dell'anno? finirai dritta in prigione immagino al momento del calcolo finale oppure fammici pensare mettiamo che i castighi siano tutti di andare a letto senza cena allora quando arriva la resa dei conti dovrai saltare cinquanta cene tutta in una volta beh non sarebbe un gran male dopo tutto preferisco di gran lunga saltare la cena che doverla mangiare ma senti la neve contro i vetri delle finestre Kitty? che suono dolce e morbido è come se qualcuno fuori desse tanti bacini su tutto il vetro chissà forse la neve è innamorata degli alberi e dei campi perché li bacia tutti con tanta delicatezza e poi li copre tutti ben rincalzati con la sua coperta bianca e magari dice statevene lì a dormire tesori miei fino a che non torna l'estate e quando d'estate si risvegliano Kitty si bastano tutti quanti di verde e si mettono a ballare quando soffia il vento com'è bello! esclamò Alice lasciando cadere il gomitolo di lana per battere le mani come vorrei che fosse vero sono sicura che in autunno ai boschi viene un gran sonno con quel colore bruno che prendono le foglie Kitty sai giocare a scacchi via non ridere sciocchina te lo credo seriamente quando stavamo giocando poco fa tu ci stavi a guardare come se capissi tutto e quando ho detto scacco hai fatto proprio grong grong eh Kitty che scacco era quello avrei vinto se non fosse stato per quello orrendo cavaliere che si è calato serpeggiando tra i miei pezzi mia cara Kitty facciamola finita e quanto mi piacerebbe a questo punto essere in grado di raccontarvi almeno la metà delle cose che Alice diceva quando pronunciava la sua frase preferita facciamo finta proprio il giorno prima aveva avuto una lunghissima discussione con la sorella e tutto perché Alice aveva cominciato con un facciamo finta di essere dei re e delle regine e la sorella chiamava la precisione le aveva risposto che era impossibile perché erano soltanto in due a giocare e alla fine Alice era arrivata al punto di dire allora tu farai una parte sola e io farò tutte le altre e una volta aveva davvero terrorizzato la vecchia governante perché le aveva gridato all'improvviso in un orecchio tata facciamo finta che tu sia un osso e io una iena affamata ma questo ci porta troppo lontano dal discorso che Alice stava facendo alla gattina facciamo finta che tu sia la regina rossa Kitty guarda se ti metti seduta a braccia concerte la assomigli come una goccia d'acqua su avanti brava fai la brava e Alice prese la regina rossa dal tavolino e la porse alla gattina mettendogliela davanti come modello da imitare ma la cosa non funzionò soprattutto perché disse Alice la gattina non voleva saperne di tenere le braccia concerte come si deve allora per punirla la sollevò per metterla davanti allo specchio e farle vedere come era brutta così imbronciata e se non fai subito la brava aggiunse ti metto dall'altra parte nella casa dello specchio e adesso che mi dici? ora Kitty se te ne stai buona un attimo senza parlare sempre ti dico quali sono le mie idee sulla casa dello specchio prima di tutto c'è la stanza che vedi attraverso lo specchio è perfettamente identica al nostro salotto solo che le cose vanno nell'altra direzione io riesco a vederla tutta quanta quando salgo in piedi su una sedia tutta meno un pezzettino che c'è dietro il camino muoio dalla voglia di vedere quel pezzettino come mi piacerebbe sapere se accendono il fuoco d'inverno non si può saperlo con certezza capisci? a meno che il nostro fuoco non faccia fumo e allora si vede il fumo anche di là ma potrebbero anche farlo solo per finta per far sembrare che hanno il fuoco acceso anche loro poi guarda i libri assomigliano ai nostri solo che sono scritti alla rovescia questo lo so bene perché ho messo un nostro libero davanti allo specchio e ne hanno messo uno dei loro dall'altra parte ti piacerebbe vivere nella casa dello specchio? kitty chissà se te lo darebbero il latte magari il latte della casa dello specchio non è buono da bere oh la mia kitty adesso passiamo al corridoio puoi vedere uno scorcio del corridoio della casa dello specchio se spalanchi bene la porta del nostro salotto è proprio tutto uguale al nostro corridoio fin dove lo si riesce a vedere solo che dove non si vede al di là potrebbe essere del tutto diverso oh kitty come sarebbe bello se potessimo passare attraverso lo specchio ed entrare nella casa dello specchio sono sicura che ci sono delle cose bellissime là dentro facciamo finta che ci sia un modo per passarci attraverso kitty facciamo finta che lo specchio si è diventato tutto come un leggero velo di nebbia e che lo possiamo attraversare ma guarda si trasforma adesso è come se fosse una specie di brina te lo giuro sarà facile passarci mentre diceva queste cose era già salita sulla mensola del camino quasi senza sapere come avesse fatto ad arrampicarsi fin lassù e lo specchio stava davvero sciogliendosi e andava svanendo proprio come una luminosa nebbia d'argento un attimo dopo Alice era passata attraverso il vetro ed era saltata agilmente giù nella casa dello specchio la prima cosa che fece fu di guardare se c'era il fuoco nel camino vedebbe la soddisfazione di vedere che c'era per davvero scoppiettava allegramente proprio come quello che aveva lasciato dall'altra parte così qui starò al caldo come nella stanza vecchia pensò Alice e anche di più in realtà perché qui non c'è nessuno che mi rimprovera se sto vicino al fuoco ah che spasso sarà quando dallo specchio mi vedranno qua dentro e non potranno venire a prendermi poi cominciò a guardarsi in giro e si accorse che tutto quello che già conosceva perché lo vedeva stando dall'altra parte dello specchio nella stanza vecchia erano cose comuni e poco interessanti mentre il resto era quanto di più diverso si potesse immaginare per esempio i quadri appesi alle pareti accanto al camino sembravano tutti vivi e perfino l'orologio sulla mensola del caminetto come sapete nello specchio non potete vederne che il retro aveva la faccia di un vecchietto che le sorrideva non la tengono in ordine come l'altra questa stanza pensò Alice tra sé notando nel camino sparsi fra le ceneri parecchi pezzi degli scacchi ma subito dopo con un piccolo oh di sorpresa si buttò a terra sulle mani e sulle ginocchia per guardarli da vicino si stavano muovendo camminavano a due a due ecco il re e la regina rossi disse Alice in un sussurro per paura di spaventarli e quei due seduti sull'orlo della paletta sono il re e la regina bianchi ed ecco le due torri che se ne vanno a spasso tenendosi a braccetto credo che non mi sentano soggiunse abbassandosi un po' di più con la testa e sono quasi sicura che non mi vedano mi sento come se fosse diventata invisibile a questo punto uno squittio proveniente dal tavolo dietro ad Alice le fece volgere il capo appena in tempo per vedere una pedina bianca rotolare giù e cominciare a tirar calci restò a guardarla estremamente incuriosita per vedere cosa sarebbe successo la voce della mia bambina gridò la regina bianca alzandosi di scatto con tanta furia la fa rotolare il re in mezzo alla cenere oh mia preziosa Lili mia imperiale gattina è presa ad arrampicarsi freneticamente su per il parafuoco imperiale grullaggine esclamò il re toccandosi il naso che gli doleva per la caduta aveva qualche diritto a essere un po' seccato con la regina perché era coperto di cenere dalla testa ai piedi Alice aveva una gran voglia di rendersi utile e vedendo che la povere Lili si stava facendo venire una crisi a forza di strilli prese prontamente in mano la regina e la depose sul tavolo accanto alla sua rumorosa figlioletta la regina annaspò e si sedette quel velocissimo viaggio attraverso l'aria l'aveva lasciata completamente senza fiato e per un paio di minuti non poteva fare altro che abbracciare la piccola Lili in silenzio appena si fu un poco ripresa chiamò a gran voce il re bianco che se ne stava seduto in mezzo alla cenere imbronciato attento al vulcano quale vulcano? rispose il re alzando gli occhi spaventato verso il fuoco pensando evidentemente che quello era il posto più probabile dove potesse esserci un vulcano mi hai scaraventata qui ansimò la regina che aveva ancora il fiato mozzo sta attento passa per la solita strada non farti scaraventare qui Alice guardò il re bianco che arrancava pian piano su per le sbarre ti ci vorranno ore per arrivare al tavolo di quel passo non sarebbe meglio se ti dessi una mano? ma il re non prestò attenzione alla domanda era ormai chiaro che non poteva né vedere né udire Alice allora Alice lo raccolse con grande delicatezza e lo portò verso il tavolo più lentamente di quanto avesse fatto con la regina per non fargli mancare il fiato ma prima di deporlo sul tavolo pensò bene di dargli una spolveratina dal momento che era tutto coperto di cenere in seguito raccontò di non aver mai visto in vita sua una faccia come quella che fece il re quando si ritrovò ad essere trattenuto a mezz'aria da una mano invisibile e per di più spolverato era troppo stupito per mettersi a gridare gli occhi e la bocca gli diventavano sempre più grandi e sempre più rotondi tanto che la mano di Alice cominciò a tremare per il ridere correndo anche il rischio di lasciarlo cadere sul pavimento oh ti prego non fare queste smorfie per favore esclamò del tutto dimentica che il re non la poteva sentire mi fai morire dal ridere quasi mi scappavi di mano e non tenere la bocca così spalancata ci entra tutta la cenere là mi pare che ora tu sia abbastanza pulito aggiunse mentre gli rassettava i capelli e lo appoggiava sul tavolo accanto alla regina il re si lasciò immediatamente cadere lungo e disteso sulla schiena rimase perfettamente immobile in quella posizione Alice cominciò ad essere un tantino preoccupata per quello che aveva fatto e subito andò a vedere se trovava nella stanza un po' d'acqua da rovesciagli addosso non le riuscì di trovare altro che una bottiglietta di inchiostro e quando ritornò vede che il re si era ripreso e parlava animatamente con la regina tutto un bisbiglio terrorizzato così basso che Alice faticò a capire cosa stessero dicendo il re continuava te lo giuro cara mi è venuto freddo fin sulla punta delle basette anche la regina replicava ma tu non hai le basette l'orrore di quel momento soggiungeva il re non potrò mai mai dimenticarlo ma te lo dimenticherai diceva la regina se non prendi un appunto Alice guardò con estremo interesse il re che si toglieva dalla tasca un'enorme agenda per gli appunti e cominciava a scrivere un pensiero improvviso la colpì e afferrata l'estremità della matita che spuntava da sopra la spalla del re cominciò a scrivere per lui il povero re era più che mai perplesso e infelice e per un po' si mise a lottare con la matita senza dire una parola ma Alice era troppo forte per lui e alla fine egli esclamò ansimando ahimè me ci vuole una matita più piccola non c'è dubbio questa non riesco proprio a manovrarla scrive un sacco di cose che non ho intenzione di quali cose? chiese la regina sbirciando l'agenda sulla quale Alice aveva scritto il cavaliere bianco sta scivolando lungo l'attizzatoio non sa stare in equilibrio ma non sono appunti sulle tue impressioni sul tavolo lì accanto c'era un libro e mentre Alice si metteva seduta per tenert'occhio il re bianco poiché continuava ad essere un po' preoccupata per la sua salute e teneva l'inchiostro a portata di mano per buttarglielo addosso nel caso fosse svenuto di nuovo ne sfogliò alcune pasine per vedere se c'era qualche parte dove potesse leggere perché è tutto scritto in qualche lingua che non conosco disse fra se e se era scritto così il cicciarampa era cerfuoso e vivisci di troppi gli arrivano foracchiando nel pedano stavano tutti i mifri i vilosmoppi mentre scuolti i momiradi in vano contemplò la pagina rovellandosi per un po' ma infine un pensiero geniale la colpì ma certo è un libro dello specchio e se lo metto davanti a uno specchio le parole torneranno a essere normali questa era la poesia che alice pote leggere il cicciarampa era cerfuoso e i vivisci di tuoppi gli arriva foracchiando nel pedano stavano tutti i mifri i vilosmoppi mentre scuolti i momiradi in vano rifugi il cerampa figlio al mio ganascia sgrammia e artiglio scorticante sfuggi all'uccello cicciaccia per dio guardati dal grafobranchio che è friumante la spada bigralace e strinse in pugno lo mincio drago cominciò a cercare infinché stanco sotto il pintantugno fermossi un poco per poter posare e mentre egli broncioso ponderava il cicciarampa come dira spinto sbuffando sorti fuori dalla sua cava di schiuma e bava sbiascico e straminto l'un colpo appresso all'altro si raddoppia shthik shthik trinciava il brigalance brando lo lasciò morto e la sua testa moppia a casa riportava galonfando il cicciarampa lo uccidesti tu ti stringo al petto mio solare figlio oh gioio glorioso giorno i più i più manzante e ridonchiava in suo giupiglio era cerfuoso e i vivici di tuoppi gli arrivano foracchiando nel pedano stavano tutti i mifri i vilosmoppi mentre scuotian i momiradi in vano mi sembra molto bella disse quando ebbe finito di leggerla ma è piuttosto difficile da capire il fatto è che non voleva confessare nemmeno a se stessa di non averci capito niente non so come ma mi fa venire in mente un sacco di idee solo che non saprei dire esattamente quali comunque c'è qualcuno che ha ucciso qualcosa questo è chiaro in ogni caso oh mamma mia pensò Alice alzandoci di scatto se non mi sbrigo dovrò tornare dall'altra parte dello specchio prima di aver visto com'è il resto della casa voglio dare un'occhiata al giardino prima di tutto uscì dalla stanza in un lampo e corse giù per le scale anzi più che correre si trattava di una nuova invenzione per scendere le scale con comodo ma molto in fretta come disse fra sé e sé Alice tenendo la punta delle dita appoggiate sul passamano scendeva fluttuando leggermente senza nemmeno toccare i gradini coi piedi poi sempre fluttuando attraversò l'ingresso e sarebbe passata dritta attraverso la porta nello stesso modo se non si fosse aggrappata allo stipite cominciava a girarle un po' la testa con tutto quel fluttuare e fu piuttosto contenta di ritrovarsi a camminare in modo naturale capitolo secondo il giardino il giardino dei fiori che parlano vedrai il giardino molto meglio disse Alice fra sé e sé se potessi andare in cima a quella collina e questo sentiero mi ci porta dritto dritto cioè no non proprio aveva già percorso alcuni metri lungo il sentiero che si era rivelato pieno di curve a gomito molto strette ma finirà per arrivarsi prima o poi immagino però come si attorciglia più che il sentiero sembra un cavatappi oh questa curva dovrebbe portare alla collina credo e invece no mi riporta indietro alla casa e va bene allora vado nell'altra direzione e così fece infatti giravagando su e giù una curva dietro l'altra ma sempre qualunque cosa facesse ritornando indietro verso la casa anzi ci fu un momento in cui dopo aver preso una curva con più vigore del solito ci andò a sbattere contro senza fare in tempo a fermarsi non se ne parla nemmeno disse alicia guardando la casa e facendo finta di discutere con essa non ci vengo dentro per ora dovrei riattraversare lo specchio lo so per tornare nella stanza vecchia e allora addio a tutte le mie avventure così voltò decisa le spalle alla casa e ripartì lungo il sentiero ben decisa ad andare dritta fino alla collina per qualche minuto procedette bene e stava già dicendo questa volta ce la faccio quando il sentiero fece una svolta all'improvviso scuotendosi tutto così lei descrisse il fatto in seguito e un attimo dopo Alice si trovò che stava per varcare la soglia della casa questo è troppo esclamò non ho mai visto una casa che stesse sempre tra i piedi come questa mai e poi mai comunque la collina era sempre là in bella vista e non c'era nient'altro da fare che rimettersi in cammino questa volta si imbattì in un'aiuola molto grande che aveva un bordo di margherite tutto attorno mentre al centro si ergeva un salice piangente oh giglio tigre disse Alice rivolgendosi a un fiore di quella specie che si lasciava mollemente dondolare nel vento che bello sarebbe se tu potessi parlare certo che possiamo parlare rispose il giglio tigre basta che ci sia qualcuno con il quale valga la pena di parlare Alice fu così colpita che rimase senza parole per un minuto le mancava letteralmente il fiato alla fine mentre il giglio tigre continuava tranquillamente ad ondolarsi lei ritrovò la voce una vocetta fievole quasi un sussurro e tutti i fiori sanno parlare tanto quanto te rispose il giglio tigre e anche più forte non sta bene che noi ci mettiamo a parlare se non ci viene prima rivolta la parola disse la rosa e non vedevo l'ora che fossi tu a cominciare e intanto pensavo a un visetto che dice qualcosa benché non sia quel che si dice una faccia intelligente e inoltre sei del colore giusto e questo conta io al colore non si guardo osservò il giglio tigre se avesse i petali un pochino più arricciati sarebbe perfetta ad Alice non piaceva sentirsi criticare e allora si mise a far domande non vi viene paura a volte a starvene qua fuori senza nessuno che si prenda cura di voi c'è l'albero al centro rispose la rosa cos'altro credi che faccia ma cosa potrebbe fare se ci fosse qualche pericolo domandò Alice può sibilare rispose la rosa fa frrr frrr esclamò una margherita per questo i rami sono chiamati anche fronde non lo sapevi strillò un'altra margherita e qui cominciarono a gridare tutte insieme fino a che le loro vocette stridole risuonarono dappertutto state zitte tutte quante gridò il giglio tigre ondeggiando furioso da una parte all'altra e tremando di rabbia sanno che non posso acchiapparle ansimo chinando il capo fremente verso Alice altrimenti non avrebbero il coraggio di far tanto chiasso non te la prendere gli disse Alice con tono suasivo e poi chinandosi giù verso le margherite che già stavano ricominciando il loro chiacchiericcio vi sbigliò se non tenete a freno la lingua vi colgo subito si fece un gran silenzio e ci furono tante margheritine rosa che impallidirono molto bene disse giudio tigre le margherite sono le più tremende appena uno apre bocca per parlare attaccano tutte insieme e non la smettono più roba da farti appassire come mai sapete parlare così bene disse Alice sperando che un complimento bastasse a ridargli il buon umore ho visto tanti giardini in vita mia ma non ho mai trovato i fiori che parlano appoggia la mano per terra e senti il terreno le rispose il giglio tigre allora capirai il perché Alice obbedì è molto duro osservò ma non capisco che c'entri nella maggior parte dei giardini spiegò il giglio tigre fanno i letti troppo morbidi e così i fiori dormono sempre sembrava un'ottima ragione e Alice fu assai contenta di apprenderla non ci avevo mai pensato disse la mia personale convinzione è che tu non sei assolutamente capace di pensare interloqui la rosa piuttosto severamente non ho mai visto nessuno con una faccia più stupida della tua disse la violetta così all'improvviso che Alice sobbalzò fino a quel momento non si era fatta sentire tieni a freno la lingua le gridò il giglio tigre quando mai vedi qualcuno tu cacci la testa sotto le foglie e te ne stai lì a dormire come un ghiro e di quel che succede nel mondo non sai niente di più di quel che sa un germoglio ci sono altre persone in questo giardino oltre a me chiese Alice preferendo non tener conto dell'osservazione della rosa c'è un altro fiore nel giardino che può muoversi e andare in giro come te le rispose la rosa mi domando come fate tu fai troppe domande disse il giglio ma è più cespugliosa di te mi assomiglia chiese Alice tutta eccitata perché le era venuto in mente il pensiero c'è un'altra bambina nel giardino da qualche parte beh ha la stessa forma goffa che hai tu rispose la rosa ma è più rossa hai petali più corti direi li ha più serrati come una d'alia disse il giglio tigre e non tutti scomposti come i tuoi ma non è colpa tua non temere aggiunse la rosa in tono gentile è che stai cominciando ad appazzire capisci e allora è inevitabile che i petali siano in disordine questa era un'idea che ad Alice non garbava per niente e allora per cambiare argomento domandò viene qui qualche volta direi che tra non molto la vedrai rispose la rosa è di quella specie che porta nove spuntoni sai dove li porta chiese Alice incuriosita ma tutto intorno al capo naturalmente rispose la rosa mi domandavo perché non ne porti qualcuno anche tu credevo che fosse di regola sta arrivando gridò il botton d'oro sento i suoi passi sulla ghiaia del vialetto Alice si volse tutta eccitata e scoprì che era la regina rossa è cresciuta parecchio fu la sua prima osservazione lo era davvero la prima volta che Alice l'aveva vista in mezzo alla cenere era alta soltanto otto centimetri ed ora eccola qui che sovrastava Alice di mezza testa tutto merito dell'aria fresca spiegò la rosa c'è un'aria tremendamente buona qua fuori ne vado incontro disse Alice perché i fiori erano molto interessati ma sarebbe stato ancora più eccitante parlare con una regina vera quella è una cosa che non puoi fare in alcun modo disse la rosa faresti meglio a prenderla a direzione opposta e questo ad Alice perve un'assurdità perciò non disse niente e si mosse subito incontro alla regina con sua grande sorpresa la perse di vista in un attimo e si ritrovò di fronte alla casa un'altra volta piuttosto irritata tornò indietro e dopo aver guardato dappertutto in cerca della regina la scorsa infine lontana lontana decise di provare questa volta se il progetto di camminare nella direzione opposta funzionava funzionava magnificamente dopo nemmeno un minuto che camminava si ritrovò faccia a faccia con la regina rossa e proprio davanti alla collina che aveva tanto desiderato di raggiungere da dove vieni chiese la regina rossa e dove vai guardami in faccia parla bene e non gingillarti con le dita tutto il tempo Alice seguì tutte queste istruzioni e fece del suo meglio per spiegare che aveva perso la strada non capisco quale strada puoi aver perso rispose la regina perché qui le strade appartengono tutte a me ma come mai sei arrivata fin qui aggiunse con un tono più gentile fai un inchino mentre pensi a cosa rispondere guadagni tempo questa osservazione lasciò Alice alquanto perplessa ma aveva troppa soggezione della regina per non crederci appena torno a casa ci provo pensò fra se la prima volta che farò un po' tardi per la cena è ora di rispondere disse la regina guardandosi l'orologio apri un poco di più la bocca quando parli e ricordati di dire sempre vostra maestà volevo solo vedere com'era il giardino vostra maestà così va bene rispose la regina dandole dei leggeri colpetti in testa cosa che Alice non gradì proprio per niente per quanto se parli di giardini ho visto giardini in confronto ai quali questo è un deserto Alice non si alzardò a contraddirla ma soggiunse e ho cercato di trovare la strada per arrivare in cima alla collina se parli di colline la interruppe la regina ti potrai mostrare delle colline in confronto delle quali questa ti sembrerebbe una vallata ah no è impossibile lo testò Alice sorpresa lei stessa di trovarsi a contraddire la regina una collina non può essere una vallata è un non senso la regina rossa scosse il capo puoi anche chiamarlo non senso se vuoi disse ma io ho sentito certi non sensi in confronto dei quali questo sarebbe sensato come un vocabolario allora Alice feso un altro inchino poiché il tono della regina le aveva fatto temere di averla un po' offesa poi si incamminarono in silenzio e presto ebbero raggiunto la cima della collina per qualche minuto Alice rimase zitta a guardare la campagna tutta attorno una campagna davvero curiosa c'erano tanti graziosi ruscelletti che la percorrevano dritti dritti da un'estremità all'altra e le strisce di terreno che ne risultavano erano suddivise in quadrati con delle piccole sepi verdi che andavano da un ruscello all'altro parola mia è fatta in modo da assomigliare a un'enorme scacchiera dichiarò infine Alice mancano solo degli uomini che si muovono in su e in giù ma ci sono aggiunse deliziata e cuore prese a batterle forte forte per l'eccitazione mentre riprendeva a parlare è un'enorme partita a scacchi quella che stanno giocando sopra il mondo intero ammesso che questo sia il mondo naturalmente oh com'è divertente come vorrei esserci anch'io non mi importerebbe di essere una pedina pur di poter giocare anche se naturalmente mi piacerebbe di più essere una regina lanciò un'occhiata timorosa alla vera regina nel dire questa cosa ma la sua compagna fece solo un sorriso compiaciuto e disse non è difficile puoi fare la pedina della regina bianca se vuoi perché lì è troppo piccola per giocare parti dalla seconda casella e quando avrai raggiunto l'ottava diventerai regina in quel preciso istante chissà come si misero a correre Alice non riuscì mai a capire bene neppure ripensandoci in seguito come avessero cominciato tutto quello che ricordava era che correvano tenendosi per mano e la regina andava così veloce che per starle dietro doveva mettercela tutta ma la regina continuava a gridare più svelta più svelta e Alice non poteva andare più forte di così perché non restava nemmeno il fiato per dirglielo l'aspetto più curioso della faccenda era che gli alberi e tutte le altre cose attorno restavano sempre fermi allo stesso posto per quanto corressero era come se non superassero mai nulla può essere che tutte le cose si muovano assieme a noi pensava la povera Alice assai perplessa e la regina come se indovinasse i suoi pensieri le gridò più svelta non cercare di parlare non che Alice ne avesse alcuna intenzione mi pareva anzi che non avrebbe mai più potuto parlare tanto le mancava il fiato ma la regina continuava a gridare più svelta più svelta e se la tracinava dietro siamo quasi arrivati finalmente riuscì a dire Alice ansimando quasi ripete la regina vedi ci siamo passati davanti solo dieci minuti fa più svelta e per un po' corsero in silenzio col vento che fischiava nelle orecchie e faceva volare i capelli all'indietro con tanta forza che quasi gli strappava dalla testa pensava Alice ci siamo ci siamo gridò la regina più svelta più svelta e andavano così forte che alla fine sembrava che fendessero l'aria quasi senza toccare il suolo coi piedi finché d'improvviso proprio quando Alice era ormai del tutto esausta si fermarono e lei si ritrovò seduta per terra senza pifiato e col capogiro la regina l'appoggiò con la schiena a un albero e le disse gentilmente ora ti puoi concedere un breve riposo Alice si guardò attorno sbalordita ma siamo rimaste per tutto il tempo sotto quest'albero è tutto esattamente come era prima certo rispose la regina che cosa ti aspettavi beh nel nostro paese disse Alice ancora un po' trafelata di solito si arriva da qualche altra parte quando si corre per tutto il tempo che abbiamo corso noi ma che paese lento esclamò la regina qui invece ti tocca correre più forte che puoi per restare nello stesso posto se vuoi andare da qualche altra parte devi correre almeno due volte più forte non ci tengo proprio grazie ribattì Alice qui ci sto più che bene ma fa così caldo e ho tanta sete io so quel che ti ci vuole disse la regina amorevolmente cavandosi di tasca una scatoletta lo vuoi un biscotto? Alice pensò che sarebbe stato sgarbato rifiutare anche se non era affatto quello che le ci voleva perciò lo prese e in qualche modo riuscì a mangiarlo era molto secco e le parve di non essere mai stata tanto vicina a strozzarsi in vita sua mentre tiri focilli disse la regina io prendo le misure e si tolse dalla tasca un nastro con i segni dei centimetri e cominciò a misurare il terreno piantando dai piuoli qua e là a due metri di distanza disse mettendo un piuolo per fissare il punto ti darò le istruzioni vuoi un altro biscotto no grazie rispose Alice uno è più che sufficiente passata la sete disse la regina Alice non sapeva cosa risponderle ma per fortuna la regina non aspettò la risposta e continuò a tre metri di distanza te le ripeterò per paura che te le scordi a quattro metri ti saluterò e a cinque metri me ne andrò nel frattempo aveva messo tutti i pioli e Alice la seguì con lo sguardo vivamente interessata mentre tornava verso l'albero e poi di nuovo si incamminava lungo la fila arrivata al piuolo dei due metri si volse e disse una pedina avanza di due caselle alla prima mossa come già sai perciò tu passerai attraverso la terza casella molto rapidamente col treno direi e ti troverai alla quarta casella in un lampo orbene quella casella appartiene a tui doldam e a tui doldii la quinta è quasi tutta acqua la sesta appartiene a hampty ma non dici niente io non sapevo di dover parlare proprio ora balbetò Alice avresti dovuto dire aggiunse la regina con un tono di grave rimprovero è stato veramente gentile da parte sua dirmi tutte queste cose comunque facciamo conto che tu l'abbia detto la settima casella è tutta una foresta ma ci sarà un cavaliere che ti indicherà la strada e all'ottava casella saremo regina insieme e faremo una bella festa e ci divertiremo Alice si alzò in piedi e fece un inchino e poi si rimise seduta al piolo seguente la regina si volse di nuovo e questa volta disse se non ti viene in mente il nome di una cosa mettiti a parlare in francese tieni la punta dei piedi rivolta in fuori quando cammini e ricordati chi sei non aspettò che Alice facesse l'inchino questa volta ma raggiunse rapidamente il piolo seguente dove si volse per un attimo disse arrivederci e si affrettò verso l'ultimo come successe Alice non lo seppe mai ma appena fu arrivata all'ultimo piolo scomparve forse era svanita nel nulla o forse si era messa a correre verso il bosco e certo sa correre molto forte pensò Alice chi poteva saperlo sta di fatto che era sparita e Alice cominciò a ricordarsi di essere una pedina e che presto sarebbe toccato a lei muoversi capitolo terzo gli insetti dello specchio naturalmente la prima cosa da fare era di passare bene in rassegna il paese attraverso il quale avrebbe viaggiato era un po' come imparare la geografia pensò Alice mentre si alzava sulle punte dai piedi nella speranza di vedere un po' più lontano fiumi principali non ce n'è nessuno montagne principali questa su cui sto è l'unica e non credo che abbia un nome città principali ehi ma chi sono quelle creature che fanno il miele laggiù non possono essere api le api non le vedi a un chilometro di distanza e per qualche minuto se ne rimase zitta a guardare una di quelle creature che si industriava attorno a un fiore ficcandoci dentro la proboscide proprio come un'ape regolare a tutti gli effetti pensò Alice comunque era tutto fuorché un'ape regolare a tutti gli effetti perché in effetti era un elefante e Alice lo scoprì subito anche se l'idea per un attimo le mozzò il fiato ma chissà che fiori enormi debbono essere fu il suo pensiero successivo come delle case alle quali hanno tolto il tetto e poi hanno messo sotto il gambo e chissà quanto miele fanno vado a vedere no non subito aggiunse frenandosi proprio mentre stava per precipitarsi giù per la collina e cercando di trovare delle scuse per quella sua improvvisa timidezza per andare giù in mezzo a loro bisognerebbe avere almeno un bel bastone lungo per tenerli a bada e poi chissà come mi prenderanno in giro quando vorranno sapere se ho fatto una bella passeggiata oh sì non c'è male dirò e qui buttò il capo all'indietro il suo vezzo preferito però c'era un caldo e un polverone e gli elefanti erano così fastidiosi credo che scenderò dall'altra parte disse dopo una pausa e magari ci vado più tardi a vedere gli elefanti e poi muoio dalla voglia di arrivare alla terza casella così con questa scusa corse giù per la collina e con un salto altrepassò il primo dei sei ruscelletti biglietti prego gridò il controllore affacciandosi al finestrino e in un attimo tutti tirarono fuori i biglietti erano grandi pressapoco come le persone e riempivano tutta la carrozza e tu ragazzina sbrigati tira fuori il biglietto aggiunse il controllore guardando Alice irritato e un nugolo di voci dissero tutte insieme come se facessero un coro pensò Alice su ragazzina non farlo aspettare il suo tempo vale un miliardo di lire al minuto ma io non ho il biglietto rispose Alice con voce spaventata vengo da un posto dove non c'era la biglietteria e il coro delle voci riprese non c'era posto per la biglietteria da dove viene lei la terra là vale un miliardo di lire al millimetro poche storie disse il controllore potevi comprarne uno dal macchinista e di nuovo il coro attaccò con il macchinista che fa andare il treno solo il fumo vale un miliardo di lire allo sbuffo Alice pensò fra se e se ma qui è proprio inutile parlare le voci non si unirono in coro questa volta dal momento che lei non aveva parlato ma con sua grande sorpresa pensarono tutti in coro mi auguro che voi sappiate cosa significhi pensare in coro perché devo confessarvi che io non lo so meglio non dire niente del tutto il linguaggio vale un miliardo di lire a parola mi sognerò i biglietti da un miliardo di lire stanotte ci potrei giurare pensò Alice durante tutto questo tempo il controllore non aveva smesso un attimo di fissarla prima attraverso un telescopio poi attraverso un microscopio e poi attraverso un binocolo da teatro infine disse stai viaggiando nella direzione sbagliata e chiuso il finestrino se ne andò una ragazzina così giovane disse il signore che era seduto di fronte a lei portava un vestito di carta bianca dovrebbe sapere in quale direzione andare anche se non sapesse nemmeno il proprio nome una capra che se ne stava seduta accanto al signore vestito di bianco chiuse gli occhi e disse ad alta voce dovrebbe sapere dove si trova la biglietteria anche se non sapesse nemmeno l'alfabeto c'era uno scarafaggio seduto accanto alla capra era un raggruppamento di passeggeri piuttosto strambo nell'insieme e poiché sembrava che la regola fosse che parlavano uno dopo l'altro a turno e gli soggiunse dovrà tornare indietro viaggiando come bagaglio appresso Alice non riusciva a vedere chi fosse seduto accanto allo scarafaggio ma udì una voce con un bel tono nutrito di alte vibrazioni cambio delle locomotive disse ma si strozzò e fu obbligato a interrompersi sembrava un cavallo pensò Alice fra sé e una vocina piccola piccola le sussurrò all'orecchio potresti farci un gioco di parole qualcosa tra nutrito e nitrito poi una voce molto gentile e lontana disse bisognerebbe metterle un'etichetta tipo fanciulla fragile non vi pare e dopo altre voci si levarono ma quante persone ci sono in questo scompartimento pensò Alice aggiungendo siccome ha una testa la mettiamo davanti al treno a tirare per il resto del viaggio se è intestata la dobbiamo spedire per posta e allora meglio come intestazione di un telegramma per telegrafo e altre cose del genere ma il signore vestito di carta bianca si chinò in avanti e le sussurrò in un orecchio non dar retta a quello che dicono piccina ma vai a comprare un biglietto di andata e ritorno tutte le volte che il treno si ferma non ci penso proprio gli rispose Alice con una certa impazienza non ho niente a che fare con questo treno ero in un bosco un momento fa e ci voglio tornare potresti farci un gioco di parole disse la vocina dentro al suo orecchio qualcosa tra volere e volare non esasperarmi disse Alice guardandosi attorno in vano per vedere da dove venisse la voce hai tanta voglia di fare dei giochi di parole perché non te li fai da te la vocina tirò un profondo sospiro si capiva che era molto molto infelice e Alice avrebbe voluto dirle qualcosa per consolarla se solo sospirasse come fanno tutti pensò ma aveva emesso un sospiro così straordinariamente esile che Alice non l'avrebbe sentito proprio se non le fosse entrato quasi dentro all'orecchio la conseguenza fu che si sentì prudere l'orecchio e subito le passò di mente l'infelicità della povera creaturina lo so che sei mia amica soggiunse la vocina una mia amica cara una vecchia amica e che non mi farai del male anche se sono un insetto che specie di insetto si informò Alice piuttosto preoccupata ciò che voleva sapere in realtà era se l'insetto fosse di quelli che pungono oppure no ma capiva che sarebbe stato educato fare una domanda del genere allora tu non prese a dire la vocina ma fu soffocata dal sibilo acuto della locomotiva e tutti balzarono in piedi spaventati Alice compresa il cavallo che aveva messo la testa fuori dal finestrino la ritirò dentro con molta calma e disse è soltanto un ruscello che dobbiamo saltare la spiegazione appagò tutti quanti per quanto Alice provasse un certo nervosismo all'idea di un treno che salta perlomeno ci porterà alla quarta casella ed è già una buona cosa disse fra se l'istante dopo sentì la carrozza che si alzava dritta in aria e dallo spavento si aggrappò alla prima cosa che le capitò sotto mano il caso volle che fosse la barba della capra ma ebbe l'impressione che la barba le si sciogliesse sotto le dita e si ritrovò tranquillamente seduta sotto un albero mentre la zanzara questo era infatti l'insetto con il quale stava parlando si dondolava su un ramoscello proprio sopra la sua testa e le faceva vento con le ali si trattava di una zanzara molto grossa grande quasi come un pollo pensò Alice tuttavia non provò alcuna paura dal momento che avevano parlato insieme tanto a lungo allora non tutti gli insetti ti piacciono riprese a dire la zanzara come se nulla fosse successo mi piacciono quelli che sanno parlare rispose Alice io vengo da un paese dove gli insetti non parlano quali sono gli insetti che ti piace avere nel paese da dove vieni volle sapere la zanzara non mi piace avere degli insetti le spiegò Alice perché mi fanno paura perlomeno quelli più grossi ma ti posso dire il nome di qualche insetto e naturalmente rispondono quando li chiamate per nome osservò distrattamente la zanzara non mi risulta che lo facciano a che serve dargli un nome disse la zanzara se non ti rispondono non serve a loro disse Alice ma serve alla gente che li deve nominare penso altrimenti perché mai le cose avrebbero un nome non lo so rispose la zanzara poco più avanti in quel bosco laggiù sono tutti senza nome comunque vai avanti con la tua lista di insetti stai perdendo tempo beh c'è la cavalletta cominciò Alice recitando i nomi sulla punta delle dita benissimo replicò la zanzara guarda quel cespuglio laggiù a mezz'altezza c'è una cavalletta ad ondolo è tutta fatta di legno e si sposta dondolandosi da un ramo all'altro di che cosa si nutre chiese Alice fortemente incuriosita di linfa delle piante e segatura rispose la zanzara vai avanti con la tua lista Alice guardò la cavalletta ad ondolo con grande interesse e in tui che doveva essere stata ridipinta da poco perché era tutta lucida e appicciccaticcia infine proseguì c'è la libellula guarda il ramo sopra di te disse la zanzara quella che vedi è una libellula flambè il corpo è fatto di panettone le ali di aglifoglio e la testa è un'uvetta che brucia nel cognac di che cosa si nutre chiese Alice come aveva fatto prima di torta sbrisolona e frutta secca rispose la zanzara e fa il nido nei pacchi natalizi e poi c'è la farfalla proseguì Alice dopo aver dato una bella occhiata all'insetto con la testa fiammeggiante e aver pensato fra sé deve essere per questo che gli insetti amano tanto la fiamma delle candele perché vogliono diventare libellule flambè eccola lì che sta zampettando vicino ai tuoi piedi disse la zanzara Alice tirò indietro i piedi un po' allarmata la farfalla pane e burro le sue ali sono fettine sottilissime di pane spalmate col burro il corpo è un pezzo di crosta e la testa è una zolletta di zucchero e di che cosa si nutre di tè leggero con panna venne in mente ad Alice una difficoltà imprevista e se non lo trova chiese allora muore naturalmente ma è una cosa che deve capitare assai spesso osservò Alice pensierosa le capita sempre rispose la zanzara dopodiché Alice restò zitta per un paio di minuti sopra pensiero nel frattempo la zanzara giocava volando attorno alla testa di Alice e ronzando con insistenza alla fine tornò a posarsi e disse immagino che tu non voglia perdere il tuo nome no davvero rispose Alice un po' preoccupata eppure non sarebbe male riprese la zanzara con non curanza pensa come sarebbe comodo per te tornare a casa senza avere più il nome per esempio se l'istitutrice ti volesse chiamare per farti studiare direbbe vieni qui ma poi dovrebbe lasciar perdere perché non avrebbe un nome con cui chiamarti e tu potresti fare a meno di andare a studiare non ti pare non funzionerebbe ne sono sicura rispose Alice l'istitutrice non accetterebbe mai una scusa di questo genere se non si ricordasse il mio nome mi direbbe permette signorina come fanno le domestiche bene mettiamo che dica permette signorina e nient'altro osservò la zanzara allora tu potresti rispondere che la signorina non permette è un gioco di parole mi avrebbe fatto piacere che l'avessi inventato tu e perché ti avrebbe fatto piacere chiese Alice è un gioco di parole pessimo ma la zanzara tirò solo un gran sospiro mentre due lacrimoni rotolarono lungo le guance non dovresti fare giochi di parole le disse Alice ti rendono così infelice allora ci fu un altro di quei piccolissimi sospiri malinconici e questa volta sembrava che davvero la zanzara si fosse sciolta in un sospiro perché quando Alice alzò gli occhi sul ramoscello non c'era più nessuno e dal momento che a starsene seduta per tanto tempo le era venuto freddo si alzò e si rimise in cammino ben presto giunse in un campo aperto in fondo al quale c'era un bosco sembrava molto più cupo dell'altro bosco nel quale era stata e Alice ebbe qualche titubanza a entrarci tuttavia ripensandoci decise di proseguire perché indietro non ci torno di sicuro disse fra sé e quella era l'unica via per arrivare all'ottava casella questo deve essere il bosco disse fra sé e pensierosa dove le cose non hanno nome che ne sarà del mio nome se ci entro non ho nessuna voglia di perderlo perché me ne darebbero certamente un altro e sono sicura che sarebbe un brutto nome però ci sarebbe da divertirsi a cercare la creatura che si è preso al mio vecchio nome sarebbe un po' come negli annunci quando qualcuno ha perso il cane risponde al nome di Dash portava un collare di ottone pensa chiamare Alice tutto quello che ti trovi davanti finché non ci sia qualcosa che risponda se uno fosse furbo non risponderebbe affatto vagava coi pensieri in questo modo quando giunse vicino al bosco che era molto fresco e ombroso perlomeno è un sollievo disse mentre si inoltrava tra gli alberi dopo aver patito tanto caldo entrare in in un in che cosa raggiunse piuttosto sorpresa di non riuscire a ricordarsi la parola voglio arrivare sotto sotto questo e toccò con la mano il tronco dell'albero chissà come si chiama chissà secondo me non ha nome anzi non ce l'ha di certo per un minuto se ne stette zitta a riflettere poi all'improvviso sbottò allora è successo per davvero alla fin fine e adesso chi sono io voglio ricordarmelo se appena posso sono decisa a farcela ma il fatto di essere decisa non le servì granché e tutto quello che riuscì a dire dopo una lunga riflessione fu L so che comincia per L proprio in quel momento passò di lì un cerbiato guardò Alice con i suoi grandi occhioni dolci senza la minima paura qui qui vieni qui disse Alice tendendo la mano e cercando di accarezzarlo ma quello fece un passetto indietro e poi si fermò nuovamente a guardarla che non me porti chiese infine il cerbiato che voce carezzevole e suave aveva se lo sapessi pensò la povera Alice con una certa tristezza rispose nessuno per ora ripensaci disse quello così non va Alice ci pensò ma non le venne niente per favore mi puoi dire che non me porti tu chiese timidamente potrebbe essermi di qualche aiuto te lo dirò se vieni con me un poco più avanti le rispose il cerbiato qui non me lo ricordo e camminarono insieme attraverso il bosco Alice con le braccia vinte teneramente al morbido collo del cerbiato finché non giunsero a un altro campo aperto e qui il cerbiato fece un balzo improvviso e si liberò della stretta di Alice sono un cerbiato gridò con voce piena di gioia e tu oh povero me sei una bambina dell'uomo un'espressione impaurita apparve all'improvviso nei suoi splendidi occhi marroni e un attimo dopo era schizzato via a tutta velocità Alice rimase ferma a guardarlo ed era lì per scoppiare a piangere dal dolore di aver perso il suo caro piccolo compagno di viaggio così all'improvviso però adesso lo so il mio nome disse era qualcosa Alice Alice non me lo dimenticherò mai più e adesso quale di questi cartelli dovrò seguire non era una domanda troppo difficile alla quale rispondere dal momento che c'era soltanto una strada in mezzo al bosco e che i due cartelli indicavano entrambi la stessa direzione deciderò disse Alice a se stessa quando la strada si biforcherà e i cartelli indicheranno due direzioni diverse ma le cose non stavano esattamente così lei continuò a camminare a camminare per un lungo pezzo ma quando la strada si biforcava c'erano immancabilmente due cartelli che indicavano la stessa direzione uno che diceva alla casa di Tweedledam e l'altro alla casa di Tweedledin è chiaro disse Alice alla fine abitano nella stessa casa chissà perché non ci ho pensato prima ma non posso fermarmi troppo busso e dico come state e poi chiedo la strada per uscire dal bosco se solo riuscissi ad arrivare all'ottava casella prima che faccia buio riprese dunque il cammino continuando a parlare da sola mentre andava finché subito dopo aver superato una curva stretta si imbatté in due ometti grassocci e la cosa accadde così all'improvviso che non potei fare a meno di trassalire e di fare un passo indietro ma subito si riprese poiché era certa che si trattava di capitolo quarto Tweedledam e Tweedledì alla casa di Tweedledam alla casa di Tweedledì Tweedledì